Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alle scorciatoie sulla tastiera oppure che i tasti di scelta rapida sulla tastiera non funzionano su Windows 10 o Windows 11, quindi in questo caso provo un attimo a scollegare così la tastiera della PC, ricollega di nuovo la tastiera e andiamo direttamente su gestione dispositivi, tasto destro sopra sul logo start qua, vai su gestione dispositivi, vai direttamente su controller USB, vai sulla tua tastiera, la mia tastiera è questa qua della Logitech G213, se c'è un triangolino giallo tasto destro sopra, fai aggiornare driver, cerca driver nel computer, scegli un elenco di driver, metto quello della versione 15 aprile 2024 e faccio avanti e lo installo. Chiudo qua, dobbiamo riavviare il computer, se non dovesse funzionare puoi sempre fare tasto destro sopra, fai disinstalla il dispositivo, poi riavvia il tuo sistema operativo, se qui c'è ancora scritto che il dispositivo è disinstallato, scollega la tastiera e ricollega, poi chiudi un attimo qua, vai su servizi, servizi, scendi fino a giù fino a trovare così il servizio Human Interface Device, questo qua che è in esecuzione, se non era in esecuzione non funzionavano i tasti di scelta rapida oppure gli shortcut e il funzionamento della tastiera. Ci clicchiamo sopra, tipo di avvio, manuale, fai automatico, lo stato di servizio è in esecuzione, puoi sempre fare interrompi, fai avvia, tipo di avvio automatico e fai applica e fai ok. E chiudi qua. Se hai altri problemi riguardo alla tastiera puoi sempre commentare sotto al video, se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere i problemi agli shortcut sulla tastiera o il funzionamento della tastiera che non funziona su Windows 10 e Windows 11, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!